benvenuti oggi sono a torino in piazza perotti al numero 8 nell'incrocio tra corso svizzera e via cibrario se state cercando un appartamento panoramico e luminoso date un'occhiata al video l'appartamento è composto da ingresso ampio salone tinello con cucinino due camere doppi servizi, due ripostighi e due balconi ampia metratura, luminosità e una vista impareggiabile sono alcune delle caratteristiche di questa casa contattami per visitarla grazie